Cari concittadini buongiorno a tutti e buona domenica. Anche oggi la nostra consueta diretta Facebook della settimana l'abbiamo fatta di domenica e non di sabato per gli impegni che ieri si sono avuti qui in municipio. La settimana che è cominciata, che oggi si chiude, è cominciata con la promozione della squadra del Real San Nicola nella prima categoria, quindi è stato per me un grande onore, un grande piacere essere presente lì ai festeggiamenti nel campo sportivo e tra i calciatori della squadra. Con loro saluto tutta la squadra, l'allenatore, il presidente della società, l'unico calciatore residente nel nostro comune, Antonio De Mercurio di Santa Maria in Grisone, con loro ho preso degli impegni che manterremo per il nuovo anno sportivo che si andrà a svolgere subito dopo l'estate. Quegli impegni già li stiamo onorando con quella che è stata la giunta che abbiamo tenuto l'altro giorno che ha approvato il bilancio di previsione, il bilancio di previsione che adotteremo subito dopo l'approvazione in Consiglio Comunale entro la fine di questo mese. In quel bilancio di previsione abbiamo appunto previsto delle somme per le iniziative sportive, per le strutture sportive e quindi che assieme alla società diciamo così verificheremo quelle che sono le esigenze più urgenti proprio per la squadra e quindi faremo in modo da devolvere parte di quelle somme per queste finalità. Quindi complimenti ancora alla squadra, ai dirigenti, ai giocatori, ai tifosi e partiremo per il nuovo anno con il piede giusto, faremo in modo da mettere a posto quella che è la struttura del campo sportivo Vittorio Parrella e staremo vicino a quella che è la squadra che si andrà a costituire per il prossimo campionato di prima categoria. Dicevo il bilancio di previsione, il bilancio di previsione è uno strumento importantissimo che abbiamo adottato con la giunta scorsa che adotteremo nel prossimo Consiglio Comunale. Bilancio di previsione nel quale abbiamo approvato tantissime iniziative tese a migliorare la vita dei nostri concittadini sotto tutti i punti di vista. Penso all'infanzia, ai bambini, alle politiche per i giovani, quindi prevederemo tanto sostegno e tante iniziative in particolar modo per le fasce più deboli e soprattutto per le fasce dei bambini, dei minori, degli anziani, iniziative volte al miglioramento della loro vita quotidiana nel nostro comune. Così come andremo a migliorare, come ho già detto le strutture sportive, così come prevederemo tante cose che fino ad ora non sono state previste e che vi aggiorneremo di passo di volta in volta. Nella settimana che si sta concludendo abbiamo cominciato la pulizia generale del nostro territorio con il taglio dell'erba che ormai ha il periodo questo che va fatto. Tranne qualche zona, quella di via Zappiello, la zona di Maio, di Mezzacapo che sarà fatta martedì, possiamo dire che su tutto il territorio comunale è stata svolta già una prima pulitura del verde pubblico, dell'erba e delle strade comunali. In questi giorni, ieri e oggi in particolare, si sta svolgendo la pulizia delle contrade rurali, quindi penso al contrade Montebello, Centofontane, Mezzaricotta, Camerino per vedere, quindi saranno pulite entro stasera tutte quelle zone e quindi dicevo da martedì sarà ultimata la parte di Maio, di Mezzacapo, via Zappiello e Pianelle. Domani sarà la ditta incaricata, sarà impegnata invece per fare in modo di fare la manutenzione delle strade dove c'è necessità di mettere a posto alcune strade dove sono presenti delle buche, quindi daremo priorità domani alla risoluzione di questo ulteriore problema. Quindi da martedì si andrà a completare quello che è il giro di tutto il comune per la pulizia delle strade e il taglio dell'erba lungo le strade comunali e provinciali anche nel perimetro urbano, quindi per fare in modo da accelerare quella che è la pulizia generale del nostro territorio senza aspettare altri enti che ritardano a provvedere alla pulizia che compete a loro. Continueremo con quella che è l'iniziativa di San Nicola Manfredi, il paese dei fiori e dell'allegria, quindi così come abbiamo approvato in giunta, continueremo con addobbare l'addobbo di tutte le strade, le piazze del comune di fiori e piante, abbiamo completato a Pagliara, a Monte Rocchetta, completeremo a Santa Maria Toro con i fiori e le piante e dopo averla pulita, la fontana appunto della frazione, stiamo completando a San Nicola Capoluco, completeremo nei prossimi giorni con l'addobbo floreale lungo via Roma che scende dal municipio fino a verso la variante, completeremo con San Nicola Capoluco in via Giardino nei pressi della chiesetta della Piana e poi passeremo quindi ad addobbare i marciapiedi di Annassi, la frazione di Santa Maria in Grisone, la frazione di Toccanisi e Torre Pagliare, quindi tutte le frazioni, tutte le contrate del comune saranno avvelite, addobbate con fiori e piante su tutto il territorio. Abbiamo continuato con l'iniziativa del montaggio delle telecamere per la videosorveglianza in tutto il territorio comunale, questa settimana sono state montate le telecamere a Monterocchetta, al Bivio per Toccanisi, a Pagliare, al Bivio tra Pagliare e Montorsi, continueremo con Torre Pagliare la prossima settimana. Abbiamo organizzato e sarà la prima iniziativa dell'estate sannicolese per il primo weekend estivo, appunto tra il 19 e il 21 giugno, l'incontro con Beppe Convertini con due ore di riprese per far conoscere il nostro territorio, le nostre specialità e quindi organizzeremo questa giornata del 19 di giugno lungo le frazioni, le contrate per far conoscere appunto anche fuori dai confini provinciali San Nicola Manfredi e le sue tradizioni, le sue specialità, le sue squisitezze locali. Quindi faremo questa iniziativa, nello stesso fine settimana è previsto l'inizio della Bivio dell'estate sannicolese con la presenza del Cartoon Village che poi sarà ripetuto nella fine settimana successivo, quindi del 26 giugno. Il Cartoon Village sarà presente agli Annassi, a San Nicola Capoluogo e a Pagliara per la gioia dei bambini del nostro territorio. Per restare in tema di bambini, il sottoscritto e tutta l'amministrazione comunale rivolgono i migliori auguri e lo inviteremo qui nel municipio per consegnare anche noi un'onorificenza a questo bambino che ha avuto la medaglia d'oro per le Olimpiadi di matematica. Parlo di Raffaele Botticella è un bambino di Annassi. Complimenti a lui, alla sua famiglia e quindi lo inviteremo ben presto qui nel nostro municipio per onorarlo anche noi ufficialmente per questo importante traguardo raggiunto. Ancora complimenti caro Raffaele. Stiamo completando quello che è l'addobbo dello scalone nel retrostante del municipio, lo abbiamo addobbato, lo abbiamo prima pulito con un'idropulitrice perché era in condizioni pessime, poi lo abbiamo addobbato di piante, lo finiremo di addobbare con altre piante ma provvederemo nel giro di qualche giorno a farlo pulire con la sabbiatrice perché il marmo deve tornare a splendere così come era all'inizio, quindi voglio che non deve esserci più nemmeno una macchia di nero presente, quindi sarà pulito totalmente lo scalone retrostante del municipio, sarà di nuovo illuminato perché le luci non funzionano più, sarà illuminato in maniera adeguata e bella perché nel prossimo mese di luglio terremo una serata su questo scalone con tutta la piazza retrostante che farà da cornice a questa serata, ci sarà una serata per le selezioni di Miss Italia con la presenza di Miss Italia a San Nicola Manfredi, quindi un'altra serata per l'estate san nicolese e sarà valorizzato questo scalone meraviglioso che abbiamo nel retro del municipio, deve essere ripeto illuminato in maniera adeguata. Abbiamo illuminato, restando in tema di illuminazione, il centro di raccolta di isola ecologica a Santa Maria in Grisone, non c'era mai stata l'illuminazione, è stata portata con dei pali eccetera ed è stato finalmente illuminato, quindi per la prossima estate prevederemo diverse iniziative per i bambini, anche qui nel bilancio di previsione abbiamo previsto dei fondi per l'acquisto di giostrine in tutte le frazioni, insomma stiamo governando e stiamo governando bene, ci stiamo impegnando, ovviamente le lacune che abbiamo trovato sono tantissime e quindi ci vuole il tempo necessario per fare tutto ciò che necessita da parte della popolazione nei vari settori, però ci stiamo impegnando quindi con un po' di tempo riusciremo ad arrivare a tutte le fasce d'età e a cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono. Partiremo fra non molto con i lavori per la ristrutturazione della ex scuola elementare di Pagliara che sarà di vita da sito nido per l'ambito B2, ormai stiamo chiudendo con quelli che sono gli adempimenti burocratici a livello di progettazione e poi passeremo agli incarichi, nel giro penso di inizio giugno si partirà con i lavori e quindi faremo i lavori in tutta la stagione estiva per poi consegnare l'asilo pronto per le iscrizioni nel prossimo ottobre. Abbiamo in questa settimana messo riparo a tante situazioni di criticità sulla rete idrica comunale in tante zone del comune, abbiamo approvato come giunta il patrocinio per l'iniziativa della Plastic Free organizzata da alcuni concittadini il prossimo 22 di maggio agli annassi alle ore 9.30, complimenti agli organizzatori, abbiamo presentato entro il 12 di maggio tutta la documentazione necessaria per ottenere il finanziamento per l'efficientamento energetico di circa 500 mila euro per completare quindi l'efficientamento energetico in tutto il territorio comunale, abbiamo presentato tutto ciò che era necessario dentro la data stabilita. Faccio i miei auguri di pronta guarigione al parroco Don Pietro D'Angelo che ha avuto qualche problemino di salute, gli auguro di tornare presto qui in mezzo a noi, San Nicola Manfredi, Masanta Maria Toro, Monte Rocchetto, Toccanisi, hanno bisogno di voi caro Don Pietro e quindi l'augurio che possiate tornare presto in mezzo a noi. Andremo avanti con le politiche per quanto riguarda l'abbattimento, la demolizione di questi container, baracche in tutto il territorio comunale. Ringrazio chi sta provvedendo ancora in questi giorni anche qui a San Nicola della demolizione spontanea, ma ormai il tempo gliel'abbiamo dato a tutti, passeremo ora a chiedere i titoli autorizzativi in forma ufficiale e quindi chi non è in possesso di titoli autorizzativi passeremo all'ordine di demolizione e tutti gli atti e gli attempimenti necessari previsti dalla legge. Quindi l'invito a provvedere ancora, ci sta qualche giorno, in maniera a Bonaria e da soli, allo smontaggio di questi manufatti che rappresentano uno spregio al decoro urbano che stiamo cercando di preservare e di migliorare in tutte le frazioni del nostro comune. Ho fatto visita ieri mattina con un imprenditore del settore, per la prima volta non c'era mai stato, a quella che era dove si pensava di costruire la casa di riposo nella frazione di Monte Rocchetta, una struttura grandissima, bellissima, che poi inspiegabilmente è stata lì abbandonata, lasciata al decreto e all'incuria, ai vandali, diciamo così, mandata in pasta e ai vandali. Ebbene, questo imprenditore del settore è rimasto davvero meravigliato della bellezza anche del posto dove si trova questa struttura e penso che potranno esserci belle novità per fare in modo da recuperare questa struttura che è rimasta così al totale degrado e abbandono e che invece va recuperata anche in vista di un risvolto occupazionale per i cittadini e per la comunità tutta di Monte Rocchetta. Quindi ci stiamo concentrando anche su questa tematica, facendo in modo da non lasciare nulla al caso. Stiamo organizzando l'estate sannicolese, non faremo un vero e proprio cartellone, ma pubblicizzeremo le iniziative di volta in volta perché ce ne sono tante, dobbiamo ancora incontrarci con chi se ne occuperà. Ringrazio di questo Vincenzo Panella, l'assessore Anna Torri, il maestro Leonardo Quadrini. Insomma, faremo un bel programma ma che lo pubblicizzeremo di volta in volta. Quindi inizieremo con questa... cominceremo, dicevo, con Beppe Convertini e la trasmissione per far conoscere il nostro territorio anche al di fuori dei confini provinciali e poi continueremo quindi con il Cartoon Village, con la serata di Miss Italia qui a San Nicola, con concerti lungo tutto il territorio comunale, penso a quelli già programmati di Francesca Maresca, del gruppo folk, delle bande musicali, di Paolo Meneguzzi. Comunque ci sono varie iniziative su cui vi terremo aggiornati prossimamente. Ricordo la nostra concittadina che è venuta a mancare nei giorni scorsi, Alba Calasso. Chiedo scusa per l'interruzione continua, ma purtroppo chiamate continue, messaggi continui da vari rittadini mi hanno fatto bloccare due volte la diretta e quindi questo. Vi rinnovo i miei auguri di buona domenica, di buona settimana che sta per cominciare e vi terrò aggiornati sulle varie iniziative di volta in volta. Grazie a tutti, di nuovo buona giornata.